La superbia al centro della catechesi dell'udienza generale del 6 marzo, decima riflessione del ciclo sui vizi e le virtù iniziato nei mesi scorsi. Di tutti i vizi questo è il più grande, ha affermato Monsignor Pierluigi Giroli della Segreteria di Stato, che ha letto il testo al posto del Papa ancora alle prese con il raffreddore. Questo demone distrugge le relazioni che invece avrebbero bisogno di fratellanza. In realtà dentro questo male si nasconde il peccato radicale, l'assurda pretesa di essere come Dio. Dio infatti nei Vangelici ha insegnato a non giudicare mai, mentre le persone superbe spesso emettono sentenze irrevocabili nei confronti degli altri valutati come inenti e incapaci. Per superare ogni atto di superbia c'è un solo rimedio, quello dell'umiltà, un esercizio di salvezza da approfondire e da praticare soprattutto in questo periodo che ci conduce alla Pasqua. Cari fratelli e sorelle, approfittiamo di questa Quaresima per lottare contro la nostra superbia.